Sicuramente abbiamo fatto un'ottima prova, ce l'abbiamo messa tutta fino al novantesimo, non dobbiamo però basarci su questo, data la nostra posizione di classifica noi dobbiamo lottare sempre per la salvezza e ogni domenica, come ha detto il mister, dobbiamo fare i punti. Oggi sfortunatamente è andata male, un po' ce l'abbiamo messa del nostro, però fino al novantesimo credo si sia visto, ce l'abbiamo messa tutta per cercare di strappare almeno un punto contro un'ottima squadra che lotterà sicuramente per la vittoria del campionato. Per la punizione io credo che abbia visto solamente un contatto tra la mia mano e la schiena del mio avversario, in diretta non mi sembrava fallo, devo rivederla ovviamente, ovvio che dalla foga io insieme ai miei compagni siamo andati a protestare perché sembrava veramente un fallo non calcistico, in quanto i contatti nel calcio sono ammessi dal limite, così mi sembrava un fischio un po' al limite, però ovviamente devo rivederlo e non me la sento di dare la colpa all'arbitro. Per il mio ritorno in campo, ovviamente per un giocatore che non viene impiegato nei primi undici delle partite, la sua partita deve essere all'allenamento, quindi io ce la sto mettendo tutta per farmi idea dal mister, ovviamente Sabo, Ventu e Simo stanno facendo un ottimo campionato e io voglio farmi trovare pronto quando il mister mi impiegherà.